queste le previsioni meteo per domani 21 marzo primo giorno di primavera l'alta pressione prosegue la sua azione stabilizzante sul mediterraneo ma scendiamo nel dettaglio la mattina avremo condizioni di bel tempo ovunque poi nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte ed innocue le temperature saranno stazionarie i venti soffieranno a direzione variabile su tutta l'isola i mari risulteranno tutti poco mossi queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il centro meteorologico siciliano sigle a cura di ap web radio in social tv grazie a tutti